sopravvivenza solo continua la nostra avventura con si raga un ipad m4 si è quello nuovo non ho fatto l'unboxing in video perché penso lo conoscete già comunque se volete approfondimenti su questo nuovo dispositivo ve li do tranquillamente nel frattempo ci prendiamo sta bella cassettina qua tutti i legamiti sono qua tutti i legamiti e vabbè vediamo quanto valgono questi legamiti cazzo è qualcosa lì che cazzo è altra star epica ancora allora io comincerei a distruggere questa cassettina qua se quel coglione non mi viene addosso già vediamo vediamo il topo ha ucciso il topo forse uccide anche me sto coglione di merda porca pittana porca pittana tutte e due tutte e due tutte e due io non capisco come cazzo fa come cazzo fa qualcosa a fare così cazzo come si è salvato come cazzo si dice porta di quella ma sei scemo no già ne so haitz me somewhere much deeper i got nightmares in my head i fear that the thoughts build up until i can't hear that my mind fills up into a creature then it haunts me summer much deeper Grazie per la visione